Dai che fai una partidina Mario Kart! Dai dai! Dai che giocatore scegli? Io Mario! E dai allora io faccio Altair perchè quella schifosissima tartaruga proprio è insursa! 4 anni fino a 2 per cento. Non si scegliere il nostro paese! E' la certo! E' la ricetta! 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 Buon appetito! A presto! E' la ricetta! E' la ricetta! E' la ricetta! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.